Dunque, parto anch'io da quanto sta avvenendo lungo il confine con la Bielorussia. Polacchi e Baltici hanno parlato apertamente di guerra ibrida condotta contro di loro da Minsk. L'accusa qual è in Soldoni? Quella che Lukashenko avrebbe mobilitato la Belavia, la compagnia aerea statale, anche agenzie di viaggio bielorusse per reclutare aspiranti migranti in Medio Oriente e proporgli di andare in Bielorussia come porta laterale per riuscire a entrare più facilmente in maniera clandestina in Unione Europea. La ricostruzione dell'accusa non è inverosimile, anche se va ammesso che è difficile credere che poche migliaia di immigrati clandestini possano destabilizzare paesi come la Polonia o la Lituania. Evidentemente la Polonia, anche legittimamente, sta cercando di fare necessità virtù, di trarre qualche beneficio da una situazione altrimenti spiacevole. E cosa cerca di fare? Cerca, enfatizzando questo suo status di aggredite in maniera irregolare, in maniera simmetrica, in maniera indiretta dalla Russia, per delegittimare un'altra aggressione più sostanziosa che quella della Commissione Europea con i vari attacchi alla sua sovranità. Diventa più difficile, sempre più difficile per Bruxelles, sostenere, mi immagino anche nei confronti della Casa Bianca, la posizione di bloccare miliardi di euro del recovery fund dalla Polonia, nel momento in cui la Polonia è considerata sulla linea del fronte con la Russia e aggredita, intenta difendersi da un'aggressione in corso da parte della Russia. Però non voglio entrare nei dettagli geopolitici, in realtà quello che mi interessava qui era proprio di concentrarmi sulla nozione di guerra ibrida applicata ai flussi migratori. Guerra ibrida è un termine che ormai circola da una dozzina d'anni, si riferisce al coordinamento di vari strumenti militari e non militari, spesso è anche utilizzato in realtà laddove lo strumento militare non viene utilizzato. Quando si è parlato più spesso in anni recetti di guerra ibrida è stato con riferimento a vera e presunta intromissione di false notizie nel dibattito, mi riferisco per dirla semplice alle fake news, ai cosiddetti troll russi che avrebbero operato per destabilizzare diversi paesi occidentali. Il termine guerra può apparire sicuramente forte, magari anche ingiustificato laddove poi manca il lato militare, però se pensiamo che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, penso che sia legittimo parlare in questo caso di guerra ibrida. In ambito baltico e polacco sono già diversi anni che se ne parla e si studia i flussi migratori mettendoli proprio in connessione con delle forme irregolari di aggressione. Perché? Perché al di là di certa retorica che descrive l'immigrazione come sempre positiva, sempre benefica, la realtà è che quando i flussi migratori sono troppo massicci, numericamente soverchianti, e in particolare se provengono da paesi culturalmente molto distanti da quelli di destinazione, i contraccolpi negativi superano le possibili ricadute positive. Adesso su questo tema ho scritto un libro qualche anno fa, quindi non mi dilungo chi è interessato può andare a approfondire lì, però mi limita a dire che massicci flussi migratori di questo tipo sono collegati a accresciuti costi relative al controllo dei confini, ricerche e salvataggio, prima accoglienza, valutazione delle richieste di diritto d'asilo, rimpatri o accoglienza dell'asilante, più su medio e lungo termine, anche più sussidi sociali, quindi c'è una pressione di tipo finanziaria sulle casse statali. Competizione, accresciuta competizione nell'offerta di lavoro nella domanda di servizi pubblici e privati che interessa soprattutto i centri autoctoni più bassi, quindi vuol dire pressione socio-economica su segmenti della società che già sono spesso in sofferenza in questa fase storica. Terzo, aumento dei fenomeni di criminalità, di malavita, dunque accresciuta pressione sull'attività delle forze dell'ordine e sulla sicurezza quotidiana di ognuno di noi, aumento dei fenomeni di terrorismo che vuol dire più pressione sulla sicurezza nazionale e ultimo, purtroppo spesso creazione di ghetti non integrati di comunità avulse dalla società che le ospita, caratterizzati da valori, culture e pratiche spesso molto distanti da questa società, che significa pressione sulla coesione sociale e anche sul corretto funzionamento democratico che richiede una condivisione valoriale di fondo per funzionare al meglio. In sintesi, l'immigrazione di massa e incontrollata pone sotto stress il paese che la riceve e potenzialmente lo espone anche a una crisi sociale. Quest'arma oggi è molto più forte che in passato perché è maggiore, molto maggiore la mobilità delle persone. Alcuni decenni fa spostare grandi masse di persone era possibile, o meglio, avveniva soltanto da un paese al paese confinante quando avvenivano eventi traumatici, guerre, massacri etnici, occupazione militare e così via. Oggi, per il progresso nelle comunicazioni e nei trasporti, perché in molte aree del mondo fortunatamente si sta eliminando la povertà più estrema e questo aumenta il bacino di coloro che potenzialmente hanno i mezzi per poter scegliere eventualmente di espatriare verso l'Occidente, fa sì che ormai normalmente ogni anno milioni di persone possano intraprendere degli spostamenti intercontinentali anche a fronte di situazioni di pace e di relativa tranquillità dai posti in cui provengono. Quindi lo strumento migratorio si è fatto molto più potente ed efficace per quegli stati che volessero sfruttarlo, stati di partenza o stati di transito. Stati di partenza perché li possono utilizzare, ad esempio, per ricevere lauti aiuti allo sviluppo che vengono dati nella speranza di bloccare questi flussi. Io personalmente sono un po' scettico su questo, cioè penso che sia abbastanza illusorio pensare di risolvere così il problema, perché in realtà per adesso noi osserviamo che una crescita del reddito è correlata a una maggiore spinta emigratoria. Questo almeno finché non si riesce a portare un paese a un livello di benessere paragonabile a quello europeo, cosa assolutamente non facile per paesi del cosiddetto ex terzo mondo. In merito ai paesi di transito, l'esempio che ha fatto anche Gianandrea è ovviamente quello della Turchia. La Turchia che ha effettivamente, per non parlare poi potenzialmente, sul proprio territorio molti, molti più migranti di quanti ne abbia la Belorussia, è incomparabile. Adesso ci sono, secondo le stime, 4 milioni di migranti in territorio turco, per lo più siriani, che molto volentieri raggiungerebbe l'Unione Europea ed Erdogan è stato bravissimo a sfruttare questa condizione per ottenere dall'Unione Europea delle aperture di credito, sia finanziarie, perché l'Unione Europea ha speso fino a miliardi di euro per l'assistenza di queste persone in territorio turco, sia politiche, perché allo stato attuale l'Unione Europea ancora tiene alla porta aperta un ipotetico ingresso della Turchia nell'Unione Europea, malgrado l'obiettivo e l'oggettivo allontanarsi delle politiche di Ankara da quello che è sicuramente il nostro gold standard. La Turchia è però anche un paese di emigrazione, prendiamo soprattutto il caso tedesco, lì c'è una folta comunità turca e quando dico folta intendo che secondo studi accademici il 5% più della popolazione tedesca sarebbe di origine turca. Immaginiamoci questa minoranza, se coesa, se organizzata, quanta influenza può avere sulla società e sulla politica tedesca. Ed Erdogan sta esattamente cercando di rendere, di riunire e di organizzare questa minoranza turca in Germania a suo sostegno. Abbiamo visto addirittura negli anni passati dei veri e propri comizi politici fatti da Erdogan in Germania. E qui si aprirebbe uno spazio immenso per discutere della politica dell'identità, cioè il tentativo di convogliare il voto compatto di minoranze etniche verso una data parte politica, ma non è immenso il mio tempo, quindi sorvolo sulla questione e vado invece su un ultimo punto, cioè guardare all'immigrazione come forma di guerra ibrida, indiretta, con altri mezzi, da una prospettiva più storica, più di lungo periodo, se vogliamo, anche probabilmente più controversa. Però le guerre si sono sempre combattute essenzialmente o per il possesso di qualcosa o in subordine per costringere qualcun'altro a fare qualcosa. Ma il tipo di guerra più naturale, più storicamente frequente, è quello per ottenere il controllo di un territorio e delle sue risorse. Ora, guardiamo all'Europa in particolare la porzione occidentale dell'Europa e è inclusa anche l'Italia. Abbiamo un continente i cui popoli che la abitano sono oggettivamente invecchiati, l'età media ormai in Europa supera i 40 anni, i giovani sono pochi. Abbiamo invece di là dal Mediterraneo, quindi molto vicini per quelle che adesso sono le possibilità di movimento, un continente dove l'età media non raggiunge i 20 anni, è più povero. L'Europa, magari non è ricchissima di risorse naturali, ma al di là del clima più salubre, ha un patrimonio di infrastrutture fisiche, di infrastrutture sociali e politiche, di saper fare che è guagliato soltanto in Nord America. Ora, è che malgrado la predazione economica, l'industrializzazione che c'è stata negli ultimi decenni verso l'Asia, comunque permane. Proviamo a traslare questa situazione al passato, alla storia del passato. Ci immagineremmo che i popoli giovani e poveri muoverebbero in armi contro quelli che occupano il territorio più opulento, ma che si stanno biologicamente estinguendo perché non si riproducono più. Io penso che oggi la stessa cosa stia in realtà avvenendo, ma in maniera pacifica. Non ci sono ovviamente guerre, non ci sono aggressioni, ma i risultati, acquitendo le dinamiche che osserviamo, sono i medesimi. Qualche anno fa il Centro Studi di Machiavelli pubblicò una ricerca basata su dati e proiezioni ufficiali, dove si dimostrava che Sixtante Busserebus, in un dato momento, a cavallo tra la fine di questo secolo e il prossimo, italiani etnici, chiamiamoli così per comodità, diventeranno una minoranza in Italia. Questo può apparire una previsione ardita e irreale, ma al di là del fatto che non è mai stata confutata, è perfettamente in linea con altre proiezioni demografiche che sono state fatte per parecchi paesi dell'Europa occidentale. Adottando una prospettiva storica, una prospettiva di lunga durata, quello che sta accadendo è che certi popoli europei, che hanno rinunciato a fare figli e nipoti, a lasciare dietro di sé figli e nipoti, stanno consegnando quella che altrimenti sarebbe stata la loro eredità, in maniera pacifica, ai popoli che i figli ancora li fanno. Questa è, secondo me, una riflessione che andrebbe fatta perché ci obbliga a guardare, appunto, in una prospettiva più ampia, il fenomeno migratorio, a considerare le macrodinamiche e quindi anche le risposte culturali e più strutturali che devono essere date. Però non voglio sviare il discorso verso i massimi sistemi, quindi mi fermo qui. Grazie. Grazie.